Ciao a tutti e bentornati sul canale, sì lo so, manco da parecchio tempo ma a gennaio è stato un mese a dir poco disastroso per me tra motivi di salute, lavoro, non ho avuto davvero tempo di registrare video ma spero che da febbraio le cose vadano molto meglio e come vedrete ci sono un po' di novità, innanzitutto ho tagliato i capelli, parecchio tipo di 5-6 cm comunque mi erano cresciuti molto ma erano molto sfibrati soprattutto a causa del covid avevo perso tantissimi capelli e adesso stanno ricrescendo ma ovviamente per arrivare alle lunghezze ci vogliono un sacco, un sacco di mesi se non anni e quindi ho voluto tagliare tutta la parte quella più vuota dei miei capelli e quindi mi sono decisa e li trovo molto molto meglio ho anche tra l'altro rifatto il colore e ho leggermente cambiato la tonalità, non sono ancora convinta al 100% che mi piaccia perché è leggermente più scuro di quello che facevo prima ma in caso fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e oggi torno con una delle tipologie di video old style che veramente andavano di modissima tanto tempo fa ma sono comunque una tipologia di video che mi piace ancora tantissimo guardare, ne avevo registrato uno l'anno scorso penso che ormai sia passato un anno o forse anche di più, non ne sono certa, comunque è passato parecchio tempo dall'ultima volta che ho registrato un What's in my bag e quindi sono qui per farvi vedere il contenuto della mia borsa la mia collezione si è allargata veramente tantissimo negli ultimi mesi ma ho deciso di farvi vedere l'ultima borsa che si è aggiunta alla mia collezione ma è anche quella che ho utilizzato di più negli ultimi mesi ed è la Prada Redition del 2005 come molti sapranno questa borsa oltre ad essere iconica ha anche una tracolla con tipo un portatelefono ma degli anni 2005 quindi molto piccolo ma ultimamente mi piace portarla solo con la catena così è veramente veramente comoda mi piace inoltre che il tessuto sia impermeabile perché qui in Inghilterra lo sapete piove sempre, è sempre mega umido quindi certe volte mi faccio scrupoli a mettere le borse di pelle mentre questa essendo appunto in nylon non ha assolutamente problemi con il meteo vi faccio subito vedere che cosa c'è dentro allora prima cosa che tiro fuori è il mio portacarte questo è di Gucci della linea Marmont l'ho preso più di un anno fa mi ci trovo molto bene la pelle è molto morbida ma allo stesso tempo resistente mi piace tanto ed è sempre presente un portacarte nella mia borsa anche se difficilmente pago con la carta perché qui il limite del contactless è tipo 100 sterline quindi molto difficile che pago con la carta però ce l'ho sempre disponibile nella borsa altra cosa che è rimasta invariata sicuramente dallo scorso What's in my bag è questo specchietto che ho preso a Tokyo nel 2015 e non potete capire quanto desidero tornare a Tokyo in questo momento ma come tutti sapranno in questo momento non si può viaggiare perché il Giappone ha chiuso la frontiera per causa del virus ma spero di tornarci presto e questo specchio l'avevo comprato in uno di quei negozi tipo 100 yen quindi però mi piace tantissimo è super carino ed è molto molto utile perché potete anche metterlo su un tavolo e tenerlo così e quindi truccarvi comodamente senza tenerlo in mano altra cosa immancabile è questa micro pochettina dove ci tengo diverse cose questo era per un'edizione limitata natalizia della MAC che appunto c'erano tre mini rossetti ma io appunto lo uso dentro la borsa e dentro diverse medicine perché non si sa mai quando uno si può sentir male poi ho un correttore giusto qualora il rossetto mi andasse in giro per il viso e quindi per ritoccarlo questo è un vecchio correttore di essence con cui mi sono sempre trovata bene ho poi qualche elastico che però devo dire che non li uso mai perché dovrei anche buttarle questi così perché con la parte in metallo mi tirano i capelli e ho poi una penna perché non si sa mai quando vi può servire questa qui è di Swarovski se non ricordo male me l'ha regalata la mia mamma ora non giudicatemi nella mia vecchia borsa avevo sempre il portachiavi di Vivian Westwood che però è molto 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 ingombrante e da quando sono passata ad utilizzare borse sempre più piccole il portachiavi non mi entra più e quindi io sono ancora con il portachiavi che mi ha dato l'agenzia immobiliare non giudicatemi ma non so davvero che portachiavi prendermi perché l'unico che mi piace è di Louis Vuitton ma allo stesso tempo mi dico sempre perché spendere tutti questi soldi per un portachiavi ti serve veramente quindi per ora sto con questo non potete di certo dire che questo what's in my bag non sia realistico e infatti ho anche un pacchetto di fazzoletti che non so per quale motivo in tutti i what's in my bag che guardo nessuna ha il pacchetto di fazzoletti e mi domando come sia possibile come fate a vivere senza sarà che a me cola sempre il naso in inverno ma in generale vi può servire anche al bagno quindi questi sono onnipresenti ho poi due mascherine credo che ok questa è nuova questa invece è usata credo sì in realtà sono qui perché appunto fino a poco tempo fa c'era ancora l'obbligo ma soltanto al chiuso di indossare la mascherina ma solo nei negozi sì lo so qui le regole per le mascherine sono molto molto flessibili ma da qualche settimana non c'è più l'obbligo né al chiuso né al di fuori quindi queste diciamo che non mi servono più ma io continuo sempre a portarle perché me la metto quando quando ne sento la necessità ho poi sempre dentro la borsa il prodotto per le labbra che indosso durante la giornata quindi in questo caso è un un rossetto liquido di Kat Von D ma veramente veramente vecchio e però adesso non l'ho messo in borsa perché mi sono appena truccata ma sicuramente ce lo metterò quando esco ma siccome sto soffrendo terribilmente la secchezza delle labbra solitamente avevo sempre un burro cacao in borsa ma da qualche tempo a questa parte ho deciso di prendere direttamente un lip gloss di quelli super idratanti con gli oli e la mia scelta è ricaduta su questo qui che si chiama dottor pao pao non non so come si lega ma credo di sì in questo modo ed è un lip gloss naturale in realtà è proprio un balsamo per le labbra che potete usare sia per le labbra che per la pelle che per le guance ed è vegano naturale devo dire che mi piace molto ed è leggermente colorato come potete vedere qui è leggermente colorato ma in realtà è più sul rosato che sull'aranciato siamo praticamente alla fine del contenuto della borsa ma come potete vedere ci sono entrate un sacco di cose in una borsa così piccola perché vedo tutti quanti che si lamentano dicendo che questo tipo di borsa sono troppo piccole ma in realtà ci entrano veramente tantissime cose e queste due cose che vi faccio vedere lo so che magari potrà sembrare strano per molte persone ma vi spiegherò perché e ovviamente c'è il mio telefono questo è un iphone 11 ce l'ho ormai da più di tre anni e il colore è quello bianco questa cover che in realtà molto molto bellina è tipo come se fosse tipo finta pelle è ruvidina molto spessa quindi e anche gli angoli rinforzati questa l'ho presa su Aliexpress per tipo due tre euro e mi piace molto ma non è l'unico telefono in questa borsa e c'è anche lui il Samsung Z Flip 3 credo che si chiami io quando l'ho visto mi sono innamorata ma voi direte perché hai due telefoni in borsa allora qui c'è la scheda italiana e qui c'è la scheda inglese volevo un po' distinguere le due cose anche per una questione di lavoro perché spesso e volentieri qui ho anche le chat di lavoro che sono sempre attive perché ovviamente siccome il mio lavoro comunque è abbastanza di responsabilità devo essere abbastanza reperibile ho sempre le chat attive qui nel caso serva qualcosa e ho anche la mail di lavoro eccetera eccetera mentre questo è per me non solo il telefono dove ho il numero inglese ma anche il telefono del weekend infatti io quando voglio uscire di casa ma non voglio totalmente pensare al lavoro porto lui porto lui e proprio non ho non ho le chat non ho nulla quindi è impossibile in questo caso disturbarmi e quindi lo faccio un po' anche per distinguere telefono di lavoro e telefono personale inoltre col fatto che ho comprato nel corso di quest'anno delle borse sempre 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 più piccole alcune faccio fatica di inserire l'iPhone e quindi questo è veramente la soluzione per qualsiasi problema perché è piccolissimo entra letteralmente in qualsiasi borsa poi io non ho mai avuto un telefono Android quindi mi sembrava anche un modo per imparare ad utilizzare un device diverso dall'iPhone devo dire che io ancora preferisco l'iPhone perché lo trovo molto più semplice però non mi trovo male di realtà mi piace tantissimo questo telefono e poi quando lo aprite diventa veramente gigante quindi lo schermo è anche molto molto più bello rispetto a quello dell'iPhone vedete è molto più grande e anche la qualità delle foto è molto migliore rispetto all'iPhone 11 e quindi sono molto soddisfatta di questo acquisto ma ve l'avevo fatto vedere in un vlog quando l'avevo comprato e tramite una promozione l'avevo comprato a tipo 300 sterline in meno rispetto al prezzo di destino quindi diciamo che mi è convenuto abbastanza e questo è tutto il contenuto della mia borsa ma ve lo faccio rivedere come vedete eccolo qui la borsa non è neanche totalmente piena quindi questo per farvi capire che c'è ancora diverso spazio per infilare cose quindi nonostante si presenti come una borsa piccola in realtà non lo è affatto perché secondo me ci sono tante cose dentro e voi siete team borse grandi o borse piccole perché io ho cambiato totalmente idea nel corso della mia vita quando ero adolescente preferivo di gran lunga le borse grandi ma poi mi sono accorta con il passare del tempo che non ho realmente la necessità di portarmi dietro determinate cose e quindi le borse grandi alla fine non le riempivo mai ed erano sempre molto ingombranti su di me non so avevo proprio l'impressione che era la borsa che portava me non di viceversa sarà che sono comunque bassina quindi le borsie grandi non lo so mi sembrava come se fossero dei valigioni su di me fatemelo sapere nei commenti perché sono davvero super curiosa spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti se volete altre tipologie di video di questo tipo e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao Grazie a tutti.